Pozzuoli vedrà finalmente operativo il proprio Forum dei Giovani, la cui elezione dei 25 rappresentanti si è svolta lo scorso 4 maggio. Il forum è un organo consultivo, formato interamente dai cittadini di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che assicura ai giovani la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica, proponendo all'amministrazione comunale che lo istituisce idee e proposte. Istituito con la legge 30 dicembre 2004 dal Parlamento italiano per dar voce alle giovani generazioni, rappresenta al giorno d'oggi un punto di riferimento per la cittadinanza giovanile. Nelle ultime consultazioni a Pozzuoli, infatti, c'è stato un vero e proprio boom di affluenza, registrando più di 2.100 presenze e 4 seggi comunali dislocati in tutto il territorio cittadino. Dopo 48 giorni dall'elezione, questo venerdì 21 giugno, si terrà la prima seduta ufficiale pubblica del Forum Potiolano, in cui si voteranno le cariche elettive principali. Si voteranno le cariche elettive, quali Presidente, l'Ufficio di coordinamento, quindi tutti gli organi interni del Forum dei Giovani per poter comunque far cominciare quest'organo a lavorare. Dico si dovrebbero votare perché si votano, non si sa se raggiungeranno i quorum giusti per poter eleggere le varie cariche. Io mi auguro di sì, credo di sì, anche perché comunque questi ragazzi sono molto responsabili, sanno l'esigenza di dover affrontare i problemi della città e di dover partecipare ai progetti, anche regionali, per poter accedere a finanziamenti e iniziare questi progettini in città. Dopo un'attesa di più di un mese, dunque, l'organo diventerà tutti gli effetti operativo, dando il proprio contributo per far valere le opinioni dei giovani putiolani, proponendo iniziative e progetti. Inoltre, tra i poteri conferiti a questo organismo di partecipazione, c'è quello di poter inserire un ordine del giorno in Consiglio Comunale. Questo organo è un organo consultivo, è un organo propositivo, ha la facoltà di proporre al Consiglio Comunale delle iniziative, dei progetti e se vedete bene la delibera o comunque il regolamento del forum, questo attiene tutte le problematiche inerenti ai giovani che vanno dall'ambiente alla sicurezza, alla sanità, al trasporto. Quindi vediamo come il forum dei giovani ha una capacità di consultazione e di proposizione verso tutti i campi dell'amministrazione. Oggi il forum rappresenta l'unica piattaforma nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 organizzazioni al suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni di esponenti. Le sfide decisive che il forum si propone riguardano la crescita personale e l'integrazione delle nuove generazioni, per garantire la qualità sociale e la democrazia nel paese. Proprio a questi giovani viene chiesto di portare in alto questi valori e di non mollare l'entusiasmo che li contraddistingue. L'entusiasmo, di mantenere l'entusiasmo che i ragazzi hanno avuto fino ad oggi, di continuarlo a mantenere perché loro con le associazioni hanno lavorato benissimo in città. Figuriamoci oggi con un organo così forte che parte dell'ente, quali risultati potranno portare alla città.